Caro Giorgio, davvero me lo chiedo ancora, cosa sia la destra e la sinistra? Ci vorrebbe buon senso perché di destra non è il rispetto delle istituzioni, di sinistra non è la lotta alla povertà. Ci vorrebbe buon senso perché di destra non è l'amore per la Costituzione, di sinistra non è la pensione alle casalini. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è no al reato di clandestinità, di destra non è l'amore per le tradizioni. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è l'Europa delle autonomie, di destra non è l'unità nazionale. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è la partecipazione, di destra non è un leader leale. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è l'amore per la Costituzione, di sinistra non è l'amore per la Costituzione, di destra non è l'amore per la Costituzione. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è l'amore per la Costituzione, di destra non è l'amore per la Costituzione. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è l'amore per la Costituzione, di destra non è l'amore per la Costituzione, di destra non è l'amore per la Costituzione. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è l'amore per la Costituzione, di destra non è l'amore per la Costituzione. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è l'amore per la Costituzione. Ancora cosa sia la destra e cosa sia sinistra. Ancora cosa sia la destra e cosa sia la destra e cosa sia la destra. Ci vorrebbe buon senso perché di sinistra non è l'amore per la Costituzione.